Diventare vegani nel 2024 ha senso? Quali sono le motivazioni che spingono le persone a fare questa scelta? È davvero un'alimentazione così benefica come dicono? A queste ed altre domande risponderò in questo video, quindi se volete saperne di più, continuate a guardarlo fino alla fine. Il quinto punto è il mio preferito. La scelta vegana non riguarda solo l'alimentazione e non si tratta nemmeno di un trend, bensì di un vero e proprio stile di vita a 360 gradi. I dati rilevati dall'Eurispes nel 35esimo rapporto Italia ci dicono che sono quasi 2 milioni e mezzo gli italiani che hanno scelto un'alimentazione vegetariana, mentre sono quasi un milione e mezzo quelli che hanno scelto un'alimentazione 100% vegetale. Come sapete io sono vegana da ben 12 anni e posso dire che sono diverse le motivazioni che spingono le persone a fare questa scelta. In questo video voglio condividere con voi le 5 principali motivazioni per capire se diventare vegani nel 2024 ha senso oppure no. La prima motivazione che spinge una persona a fare la scelta vegan è sicuramente quella etica. Infatti attraverso questa scelta la persona non vuole più contribuire alla sofferenza, all'uccisione e allo sfruttamento di qualsiasi animale. Questa scelta fa crescere nella persona maggiore consapevolezza, sensibilità e compassione nei confronti di qualsiasi essere vivente. Oggigiorno c'è molta più informazione rispetto ad una volta e non si può più far finta di niente, chiudere gli occhi o voltare le spalle dall'altra parte per non accettare la realtà e a mio avviso la scelta vegan diventa quasi un passo naturale da fare. Se avete abbastanza coraggio e volete acquisire maggiore consapevolezza vi consiglio la visione di alcuni documentari per scoprire cosa succede davvero agli animali negli allivamenti intensivi e cosa c'è dietro l'industria della carne perché questo non può e non deve essere più tollerato. Vi lascio dei link nel box informazioni. Molte persone fanno la scelta vegan per salute ma la salute è solo una conseguenza. Infatti un'alimentazione 100% vegetale se ben studiata e bilanciata può offrire tutti quanti i nutrienti di cui abbiamo bisogno per mantenere un ottimale stato di salute nel lungo periodo. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che un'alimentazione a base vegetale può significativamente migliorare la salute cardiaca, ridurre il rischio di diabete di tipo 2, prevenire alcuni tipi di tumore e favorire uno stato generale di salute migliore in quanto promuove la perdita di peso in modo sano e naturale. E sappiamo bene che in diversi paesi, tra cui l'America ma anche l'Italia, l'obesità e l'obesità infantile sono in aumento proprio a causa di un'alimentazione sbagliata, infiammatoria e ricca di cibi animali. Posso portarvi la mia esperienza personale dicendovi che grazie all'alimentazione vegetale ho evitato un intervento chirurgico all'intestino, sorte che a me è capitata invece alle persone che ho incontrato lungo il mio percorso e che hanno le mie stesse problematiche intestinali. So che me lo chiederete, quindi ve lo dico già. Gli unici due integratori di cui un vegano ha davvero bisogno sono la B12 e gli Omega 3. Se volete approfondire questo argomento, vi lascio nel box informazioni alcuni link dove degli esperti nutrizionisti del settore sapranno spiegarvelo al meglio. La terza motivazione che spinge una persona a fare la scelta vegan è quell'ecologista. Probabilmente nemmeno ci pensiamo, ma le scelte alimentari che facciamo hanno un grandissimo impatto sul pianeta. Ormai è noto che l'industria della carne ha un impatto devastante sull'ambiente, contribuendo alla deforestazione, all'inquinamento e alle emissioni di gas serra. L'agricoltura animale è uno dei principali contributori delle emissioni climatiche. Infatti, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura ha dichiarato che l'agricoltura animale è responsabile del 14,5% delle emissioni indotte dall'uomo, il che rende i prodotti animali più dannosi delle emissioni dirette di carburante di ogni automobile, aereo, autobus, camion, treno e nave sul pianeta. Anche per approfondire quest'argomento vi lascio del link nel box informazioni. Chi fa una scelta vegan lo fa anche per una maggiore sostenibilità. Anche in questo caso la sostenibilità ambientale non riguarda solo l'alimentazione. Infatti, chi fa una scelta vegan non si limita solo a consumare cibi che siano privi di ingredienti di origini animali, ma cerca anche di acquistare e consumare cibi che siano etici anche per i lavoratori, che non vengano dall'altro capo del mondo e anche che non siano imballati in strati e strati di plastica. La stessa identica cosa vale anche per quanto riguarda l'abbigliamento, la cosmesi e tutti quanti gli oggetti che andiamo a mettere nelle nostre case. Secondo voi, chi fa una scelta vegan deve di conseguenza scegliere anche tutti questi aspetti, quindi l'ambiente, sostenibilità ambientale, rispetto, etica anche nei confronti dei lavoratori, riduzione della plastica, eccetera eccetera, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Molti pensano che un'alimentazione vegetale sia triste, noiosa, complicata e insapore, ma chi dice questo è solo perché non l'ha ancora provata. La cucina vegetale di per sé è molto semplice ma offre una vasta gamma di opzioni deliziose. È possibile iniziare personalizzando i piatti della tradizione oppure della propria regione e sostituire i vari ingredienti di origine animale con dei sostituti vegetali già pronti oppure fatti in casa, a voi la scelta. Inoltre è possibile spaziare e andare a ricercare nuovi sapori nei piatti etnici che offrono accostamenti nuovi, insoliti e anche speziati e deliziosi. Personalmente adoro i piatti etnici e trovo che si sposano benissimo con un'alimentazione 100% vegetale. Assicuratevi di iscrivervi al mio canale cliccando il bottone che trovate in basso a questo video ed attivate anche la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno una delle ricette o dei contenuti che condividerò con voi ogni giorno in questo mese di gennaio. Per concludere e per rispondere alla domanda con cui abbiamo aperto questo video, ovvero se diventare vegani nel 2024 ha senso oppure no, la mia risposta è assolutamente sì. E dopo le motivazioni che vi ho spiegato nei punti precedenti, credo davvero che non ci siano più dubbi. Ma non vi sto dicendo di credermi sulla parola, bensì voglio invitarvi a considerare questa scelta e a provarla voi stessi e ad unirvi alla community che si sta impegnando per un futuro più sano, sostenibile ed etico. Ed è per questo che ci tengo ad invitare anche voi ad iscrivervi a Veganuary, un progetto che ormai da diversi anni a gennaio propone e promuove un'alimentazione a base 100% vegetale per tutti. Partecipare a questo progetto è totalmente gratuito e potete farlo semplicemente iscrivendovi al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Grazie di cuore per essere stati con me in questo video e per aver percorso con me questi 5 punti che spiegano appunto le motivazioni che ci sono dietro una scelta vegan e mi raccomando condividete questo video con le persone alle quali pensate che possa interessare. Io vi aspetto come sempre in un prossimo video. Ciao!